Buongiorno a tutti, oggi Allegroni Immobiliare vi propone un appartamento sito in Pavia, la zona è quella del Policlinico e precisamente è Via Lovati, quello che vi sto per proporre è un ampio monolocale in una palazzina servita da sensore, perfetto, la composizione del monolocale è praticamente un'unica stanza, un'ampia stanza dove c'è tutto, non è uno di quei classici monolocali piccoli dove non ci si può muovere, qua eventualmente uno potrebbe anche ospitare una persona, ecco lì l'hanno suddiviso un po' d'angoli, ovvero l'angolo letto, c'è anche il divano, poi lì come abbiamo visto c'è l'angolo cottura e lì l'angolo studio, nella posizione centrale un bel tavolo dove poter mangiare tranquillamente o che poter studiare, poi qui c'è anche il balcone, vedremo alla fine, adesso vediamo l'ultima panoramica della stanza e dell'appartamento, ricordo che qua il riscaldamento è centralizzato, come linea del bus c'è il bus numero 6 e comunque da arrivare in stazione ci si mette 10 minuti a piedi, ok, adesso cominciamo a dare un'occhiata al bagno, come avete visto c'è il disimpegno, ovvero l'antibagno e qua il bagno con la doccia, poi come finiture sono finiture discrete, la palazzina è stata costruita negli anni 80 e l'ha tenuta ancora bene, ecco qua c'è il balcone che affaccia verso la scuola, l'esposizione è ovest, quindi è illuminata verso la sera. Allegroni immobiliare 339-1916-332 Se non è questo l'immobile che stai cercando, collegati a bilocalipavia.it ed iscriverti alla newsletter per restare aggiornato.